Una delegazione cinese che ha preso parte nei giorni scorsi a un educational sul territorio piemontese in vista di Expo 2015 è stata ricevuta a Palazzo Lascaris dal Presidente del Consiglio e dall'Assessore al Turismo. La delegazione ha illustrato il progetto BookingPiemonte.it, che si propone di creare un ponte tra il Piemonte e i turisti di tutto il mondo, in particolare della Cina.